bella lì raga power robin vi faccio questo video super veloce per farvi vedere il mio nuovo kit a disposizione che viene montato qua dove ci sono le quattro viti del display qualsiasi tipo di display simile a questo funziona altrettanto in maniera uguale vanno sostituite le quattro viti io al momento non avendo le brugole ci ho messo delle viti a stella che tra l'altro sono anche comodissime perché in un attimo con il cacciavite ta 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 vanno messe delle viti più lunghe di un centimetro perché se no non arriva a prendere i dadi autobloccanti dietro in cosa consiste ma è semplice è una staffa che contiene un pulsante bellissimo a schiacciare morbido bello ed è un pulsante waterproof disponibile in vari colori ma dipende da quelli che ho al momento in cosa consiste è semplicemente un cambio di marcia praticamente tu avendo la manopola in mano e accelerando e avendo anche le dita sul freno puoi comunque cambiare velocemente le marce puoi farlo anche lasciando l'acceleratore il freno oppure tenendo il freno e schiacciando comunque così è molto comodo perché perché fa risparmiare primo un casino di batteria secondo hai maggior controllo sul monopattino ricordo che questo è un tne da 2600 watt che tira come un animale e quando arrivi per esempio per fare una curva in terza marcia sulla ghiaia o comunque vada hai bisogno di maggior controllo una minore velocità e soprattutto in accelerazione perché questo come acceleri tira come un dannato ragazzi e in curva ti fai male ti fai male invece tu arrivi in terza premi due volte lo butti in seconda e poi tranquillo acceleri oppure arrivi in passaggio pedonale dove c'è della gente di qua di là dalla terza basta un clic e ti ritrovi in prima marcia funziona così clicchi 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 senza che devi andare a cercare questi tastini che scomodo devi lasciare tutto c'è rischio che ti scappa via manubrio con le buche che ti fai male invece tu semplicemente così bom sei a posto ta 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 e via molto comodo fa risparmiare un casino di batteria fa avere un grip maggiore soprattutto con questo monopattino perché io ho lasciato la partenza hard sempre perché perché mi diverto di più perché posso farlo perché no non mi piace la partenza fluida anche perché se sei in salita o è la senti la differenza in più va beh c'è sotto il pulsantino che cambia un motore o due motori e quindi ho tutto sotto controllo adesso e devo dire che oggi l'ho provato è è un'altra cosa io l'ho costruito proprio per necessità perché mi sono reso conto che così com'era non andava bene cioè dovevo andare a cercare a fare scomodo così così ce l'ho già lì e beh è tanta roba chiaramente io l'ho messo blu perché blu il tne anche le manopole sul cugo si può mettere rosso giallo verde bianco nero e così via e non è così via e basta questi sono i colori disponibili quindi ripeto giallo rosso verde blu nero e bianco e basta questo è quanto come si monta beh il montaggio è abbastanza semplice per chi lo sa fare per chi non lo sa fare è un po complicato perché ci sono due soli cavetti da saldare farò magari più avanti un video dedicato con foto e spiegazione di come farlo ma comunque io vi ricordo che questa centralina è già predisposta per fare questa cosa qua infatti da qua escono due cavi uno il suo originale l'altro è semplicemente tappato c'è un tappino che spingendo con un cacciavite con la punta della forbice con quello che volete viene via il tappino è già predisposto c'è già il foro c'è già il foro in questo punto purtroppo non è che si vede poi tanto bene adesso così nel video mi sono dimenticato di accendere la luminosità ecco adesso cercate di migliorarlo vabbè fa niente comunque niente è semplice entra dentro qua il cavo va messa poi dopo una fascetta bisogna svitare tutte le viti qua anche questa qua della leva va messa una fascetta compresa nel kit per bloccare il cavo all'interno vanno saldati due fili nei sopra la scheda elettronica che la scheda elettronica è già preimpostata per fare questo di fabbrica ci sono dei pin liberi dove infilare dentro il filo e saldarlo quindi è un gioco da ragazzi se fate come vi dico e niente poi si richiude tutto quanto il kit viene già venduto con pulsante già montato staffa già pronta il cavetto già in misura dovrete dovrete solamente svitare tutte le viti presenti aprire la centralina mettere una fascetta e saldare con lo stagno chiaramente due fili sopra la scheda elettronica che ha già presente dei fori apposta per fare questo lavoro qua perché si vede che già di fabbrica lo avevano pensato niente questo è quanto il kit è in vendita a 28 euro spese di spedizione con corriere espresso quindi molto veloce e tracciabile in pacco non in busta in pacco compreso tutto compreso noi 28 euro questo è il nuovo kit cr design vi assicuro che è una figata allucinante perché poter cambiare le marce così con un semplice click è tanta roba e tanta roba e niente bella lì raga power robbie iscrivetevi al canale portate gli amici ce n'è sempre una nuova ve l'ho detto bella lì ok 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 ok